Milu Faradati, l'extronista Uedì contro lo speed, perché vivere questo paese è così complicato? Mi sento tanto stupida. Milu Faradati, extronista di uomini e donne, è oggi una influencer di successo e ha un obiettivo. Quello di combattere le apparenze. Apprezzata da tantissimi utenti, l'extronista. In questi giorni ha pubblicato un video su TikTok dove sottolinea come di fronte alla situazione cambio residenza serve necessariamente un supporto per l'utilizzo dello speed? Io mi sento tanto stupida. Ma perché vivere in questo paese è così complicato? Ho fatto il cambio di residenza e... Punto vogliamo parlare dello speed? Serve un dottorato di ricerca, 4 lauree e 12 specializzazioni per capire come funziona lo speed, ha sottolineato Milu Faradati. L'extronista ha raccontato delle tantissime difficoltà riscontrate con la registrazione speed e CIE di tutte le volte che il sito si è bloccato. Iniziando le procedure dall'inizio. Una situazione difficile per l'extronista. Ammettiamolo. 4 ore del mio pomeriggio impiegate così, per il certificato di residenza. Ma perché è così difficile, ha concluso disperata Milu Faradati. 4 ore del mio pomeriggio impiegate così, per l'infor www. многo precede.com.sv C'è sus, c'è sus, c'è sus, c'è sus, c'è sus pot eu sa sar Acum che nu, nu, nu mai am nimic de ascuns Pot sa ma duc tot mai sus Pot sa ma duc tot mai sus